Siamo arrivati all'ultima lezione del corso che ho voluto così un po' strutturare con un ambito anche di tipo geografico, come avevamo già osservato insieme e come avete verificato nel corso delle lezioni. Quindi arriviamo all'estremo sud dell'Italia, a Palermo, dove oggi ci occuperemo di un museo molto affascinante come gli altri che abbiamo visto come decine di altre istituzioni analoghe, probabilmente un pochino meno conosciuto rispetto ai musei di cui abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, proprio perché la collocazione in una città che ancora deve conoscere un risveglio del turismo colto, del turismo interessato a cogliere non solo gli aspetti, come dire, più esteriori del fascino di questa città, ma anche a riconoscere gli elementi culturali caratterizzanti. Ecco, quindi cominciamo la nostra lezione sul museo regionale di Palazzo Abbatellis a Palermo. Museo regionale, galleria, anzi in termini più esatto è galleria regionale e non museo nazionale, perché dopo la riforma del nostro sistema organizzativo, il nostro sistema statale, i beni che erano nazionali sono diventati di proprietà regionale e quindi questo museo corrisponde a un museo nazionale, ma il suo patrimonio come gli altri, penso al museo archeologico sempre di Palermo, Salinas e molte altre istituzioni che altrove verrebbero definite nazionali, qui sono regionali. Ma vi sottolineo questo aspetto perché non si pensi che si tratti di un'istituzione museale di secondaria importanza, ecco no, è una definizione legata proprio alle vicende giuridiche di organizzazione dello Stato. Ecco, il palazzo, come gli altri contenitori che abbiamo osservato in questo periodo, è un edificio di grande interesse, dalla storia davvero molto antica. Quello che vedete è la corte principale del palazzo che ospita la galleria, corte che come poi vi dirò è stata largamente ricostruita perché nel corso del secondo conflitto mondiale questa zona della città è stata bombardata bombardata e lo stesso palazzo Abbatellis ha avuto gravissimi danni. Il fondatore di questo palazzo, che si chiamava Francesco Abbatellis appunto, era un uomo di grande importanza politica ed economica nel regno aragonese di Sicilia del 1400. Era non solo il giudice più importante di Palermo, ma era anche il portulano dello Stato, cioè aveva l'appalto dei porti dell'isola nei quali si commerciava, si importava, si commerciavano granaglie. E quindi era davvero un uomo che aveva accumulato una grandissima ricchezza. Ad un certo punto della sua vita, non ancora anzianissimo, insieme alla prima moglie dalla quale non aveva avuto figli, decide di costruirsi un palazzo in uno degli spazi, dei quartieri più prestigiosi della città. E questo palazzo viene affidato per il progetto e la costruzione ad uno dei più importanti architetti, anzi al più importante architetto che in quel periodo, nell'ultimo quarto del 400 operava in città, e cioè il Matteo Carnelevaris, che è stato l'architetto che ha introdotto in Sicilia la cultura architettonica rinascimentale, adattandola però a linguaggi preesistenti. E lo vediamo molto bene negli archi, per esempio, che caratterizzano, ancorché rifatti, il loggiato della corte, e anche il portale, che era un portale interno, che dava l'accesso agli spazi interni dell'abitazione. Vedete, si tratta di archi molto ribassati, che hanno un'origine catalana, probabilmente spagnola, di ispirazione, e che sono stati largamente utilizzati come modello architettonico nel corso del 300, quando la Sicilia era, sì sotto il controllo spagnolo-oragonese, ma di fatto nelle mani della potentissima famiglia dei Chiaramonte, e quindi è definito anche arco chiaramontano. Ecco, il Carnelle Varis adatta una struttura architettonica tipica della Sicilia alle nuove esigenze di rappresentatività ispirate alla classicità. All'esterno l'edificio appare come una sorta di fortezza, molto serrato, una sorta di cubo, molto solido, con, adesso vi mostro meglio, una serie di trifore che ne alleggeriscono la facciata, ma insomma le due torri, una completata, l'altra non finita, ma della quale si intuisce la volontà di presenza, insomma le due torri e anche un assetto murario molto compatto, definiscono l'architettura come un'architettura ancora di tradizione medievale, tipicamente medievale. E lo vediamo molto bene anche in questo scorcio dal quale intravediamo il portale d'ingresso, vedete, è proprio un edificio molto, come dire, molto solido e molto severo, che però all'interno aveva naturalmente spazi d'abitazione molto rappresentative, signorile, questo era il salone principale del piano nobile, lo vedete nell'allestimento attuale. Il palazzo e quindi la galleria sono collocati in una zona della città molto nota perché è uno dei quattro quartieri nella quale era divisa la Sicilia, sì, la Sicilia, Palermo, la Palermo antica, la Palermo spagnola, vi mostro nel dettaglio, ecco, qual è la zona di riferimento. Il mandamento all'interno del quale è collocato Palazzo Abbatellis è il mandamento della calza, che si chiama così perché lì si trovava la rocca che uno degli emiri arabi si era fatto costruire e l'aveva chiamata Al-Khalisa, la pura, la splendente, e se l'era fatta costruire lì in una zona molto lontana, abbastanza lontana dai luoghi del potere, che tradizionalmente a Palermo si identificano in quello che noi oggi chiamiamo Palazzo dei Normanni, che è in una posizione un po' sopraelevata e in un mandamento completamente diverso dalla calza, l'albergeria che vedete qui a sinistra. Per intenderci il punto di separazione dei quattro quartieri principali è rappresentato da questa piazza, vedete da questo incrocio, principali quattro canti molto famosi. Ecco, all'interno di questo quartiere che è ricchissimo di testimonianze storiche, di palazzi prestigiosi, monumenti importanti, il nostro palazzo è collocato in questa posizione. E la via sulla quale sorge il palazzo, che qui vediamo a sinistra, è via Alloro, una via stretta, insomma, alla caratteristica della rua medievale, una via però molto importante non solo nel contesto di questo quartiere, ma più in generale nella vicenda storica e sociale anche di Palermo, perché è una via lunga sulla quale si affacciavano e si affacciano ancora molti edifici aristocratici, e Palazzo Abbatellis naturalmente è uno di questi. Purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale questa zona della città, che si trovava vicina al mare, come avete prima potuto osservare dall'alto, è stata drammaticamente bombardata e molti degli edifici che si trovavano lungo il tracciato della via Alloro hanno subito pesantissime rovine. Uno di questi, che ho preso un po' a simbolo dei palazzi della via, è Palazzo Bonagia, del quale vedete la corta interna, con lo spettacolare scalone settecentesco, che ci ricorda gli scaloni napoletani, progettato da un architetto trapanese che si chiamava Andrea Gigante, e che costituiva davvero l'elemento di maggiore rappresentatività di questa dimora signorile. Bene, Palazzo Bonagia, come potete osservare dai muri laterali, ancora oggi, 2021, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, non è stato ricostruito, se non molto parzialmente. Ecco, hanno ricostruito la scala, che però non è accessibile, non la si può vedere, vedete ci sono ancora tutti i segni e le tracce del cantiere, questo è uno degli aspetti direi drammatici, non c'è più altra città in Italia che ancora mostri, proprio come piaghe, i resti dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, come fa Palermo, e questo è davvero un elemento di cui tener conto anche quando la si visita, perché è importante, secondo me, proprio prendere consapevolezza di questa situazione, di malgoverno, direi sostanzialmente di malgoverno. Bene, questi sono male, anzi sono le fotografie della rovina del palazzo Abatellis durante la Seconda Guerra Mondiale. Finita la Seconda Guerra Mondiale, è allontanata definitivamente da questo spazio le monache domenicane che l'occupavano da secoli, perché il primo proprietario si sposa la prima volta e non ha figlie, con la prima moglie costruisce l'edificio, si sposa una seconda volta, la moglie si chiamava Maria Tocco, e nemmeno da quella riesce ad avere figli. Allora a quel punto i due coniugi fanno testamento, lasciando tutto il palazzo e una cospicua eredità, perché si costituisca all'interno di questi spazi un monastero benedettino femminile. Al monastero benedettino però si sostituiscono quasi subito le suore domenicane che vivranno fino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale in questo luogo, anche se ci saranno momenti in cui il convento viene soppresso in età napoleonica e poi... no, età napoleonica è cosa in Sicilia, non c'è stata età napoleonica, durante le soppressioni dei Savoia. Però, insomma, loro è stato concesso di vivere lì. Ma, ma, appunto, torno indietro un attimo, il portale d'ingresso vedete che ha... portate alle estreme conseguenze le caratteristiche che vi dicevo prima dell'architettura quattrocentesca del carne e le varie, no? Con questo particolarissimo portale che però ha una forte richiamo alla classicità nella presenza di queste colonnine addossate, insomma, davvero un portale di grande originalità. Ecco, all'interno, subarcato il portale, si accede ad uno spazio porticato e quindi allo spazio della corte con loggia. Ecco, questa è almeno la parte di rifacimento esterno architettonico. In questi spazi, come vi dicevo, si decide di portare le collezioni di sculture e di pittura che erano state raccolte già a partire dall'inizio del 1814 e via via incrementate, soprattutto in seguito alle soppressioni, e che prima erano state ospitate nella regia università, cioè in pratica nella casa dei Teatini di Palermo che era in pieno centro, ancora oggi ospita la sede della facoltà di giurisprudenza di Palermo. E poi nel palazzo e convento, per meglio dire, dei Filippini, dove confluiscono sia dipinti e sculture medievali e moderne, sia soprattutto i reperti della Sicilia greca e della Sicilia romana. Con la Seconda Guerra Mondiale si separano i patrimoni, un po' come è successo a Capodimonte, e a Palazzo Abbatelli si arrivano le collezioni di scultura e di pittura, mentre nel Palazzo dei Filippini resterà il Museo archeologico, che ancora oggi è lì, e che è dedicato ad Antonio Salinas, che è stato il più importante direttore di questa istituzione, diciamo così, generica, fino al 1914. Però, prima di collocare definitivamente il patrimonio di sculture e di dipinti nel nuovo Palazzo Abbatellis ristrutturato, viene chiamato un architetto importantissimo, che è Carlo Scarpa, a allestire gli spazi espositivi e a stabilire, come dire, progettare anche le modalità di esposizione dei pezzi. E l'intervento di Scarpa è un intervento di altissima qualità, naturalmente, come sappiamo lui aver fatto altrove. Oggi io personalmente lo considero una sorta di allestimento museale storicizzato e quindi non più eliminabile, ma molto lontano dalla nostra sensibilità, perché è un intervento molto forte, la cui mano è molto evidente, molto visibile, Scarpa sulla scorta della sensibilità degli anni 50, fa largo uso della materia, in termini anche espressivi di materie povere, la pietra, il metallo, il rivetto che si vede, ecco, una soluzione museografica che era in linea con i suoi tempi, molto affascinante, guardate, quella scalinata con i gradini tutti sagomati secondo un modello che era quello delle scalinate chiaromontane, però è anche, come dire, proprio un intervento molto molto forte. Hanno chiamato Carlo Scarpa a fare questo lavoro, lui architetto veneziano, perché l'anno prima, nel 1953, aveva firmato l'allestimento della prima mostra dedicata ad Antonello da Messina e che si era svolta a Messina, appunto, dopo pochi anni, dopo la fine della guerra, quindi un evento di grandissima importanza. Vedete anche da qui come, al di là, insomma, di una sensibilità che è molto lontana dalla nostra, come è forte, no, nell'intervento del curatore dell'allestimento, quasi invadente sulle opere. Questa è la mappa del piano terreno del museo che è articolato su due livelli, piano terreno e primo piano. Al piano terreno sono collocate prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente sculture e invece al piano superiore sono collocati dipinti. Naturalmente il patrimonio che è confluito in questo museo è un patrimonio che ha a che vedere sostanzialmente con le vicende storiche della Sicilia e anche se non sono solo siciliani gli artisti che vengono qui esposti, però vengono proposte comunque opere che hanno fortemente caratterizzato la storia dell'isola e io appunto mi concentrerò su due in particolare tre in realtà opere che sono molto celebri e che davvero è emozionante incontrare quando si visita questo museo fermo restando che le cose da vedere sono davvero molte ed è un museo molto interessante. Allora come potete osservare il palazzo era davvero questa al centro e alla corte che abbiamo visto col porticato era davvero una sorta di grande cubo a pianta quadrata intorno alla corte si articolavano tutti gli spazi dell'abitazione e dei servizi quando il palazzo nel 1516 passa no forse un po' più avanti 36 passa nelle mani delle monache benedettine prima e poi domenicane viene probabilmente costruita una cappella qualcuno sostiene che in realtà il palazzo avesse una sua cappella palatina in realtà sembra che la cappella che vedete è questo corpo di fabbrica in alto con apertura anche accesso dall'esterno della via sulla via all'oro sia stato aggiunto successivamente appunto al servizio del convento tant'è quello che a noi interessa è che in questo spazio è conservato una delle opere che al cuore della nostra riflessione c'è il cosiddetto trionfo della morte sempre al piano terra con un allestimento molto caratteristico proprio della cultura di design di Carlo Scarpa è collocata la Eleonora d'Aragona di Francesco Laurana altra opera celeberrima e quindi proprio da lì partiamo insomma da questo piano partiamo il grande affresco con il trionfo della morte è collocato in quella che un tempo avremmo chiamato la zona presbiteriale della cappella delle monache prima delle suore poi in realtà poi nelle suore domenicane hanno costruito un grande edificio religioso dedicato a Santa Maria della Pietà che è adiacente questa cappella e quindi questi spazi sono stati in parte trasformati comunque Scarpa decide di collocare in quello quello che era sullo sfondo di quello che era il presbiterio questo grande affresco che è stato strappato da un altro edificio e portato qui per motivi di conservazione tra l'altro l'intervento di Scarpa è un intervento molto articolato perché proprio comprendendo la centralità e il grande significato di quest'opera ha pensato di stabilire anche un percorso interno al museo che consenta di vedere dall'alto l'opera perché come avete potuto insomma apprezzare dall'immagine precedente si tratta di un dipinto di grandissime dimensioni è 6 metri per più di 6 metri in altezza e purtroppo tra l'altro nel corso dello strappo alcune porzioni sono andate perdute dove si trovava questo affresco per quale palazzo in quale occasione era stato realizzato l'affresco è stato realizzato sotto il porticato di uno palazzo che nato come edificio privato intorno alla metà del 1400 era stato trasformato in un'istituzione pubblica il palazzo è palazzo Sclafani che si trova praticamente di fronte al palazzo dei Normanni al di là della villa Giulia che sta davanti al palazzo dei Normanni quindi in una zona molto vicina al centro del potere e Matteo Sclafani che è stato appunto l'aristocratico siciliano che l'ha voluto costruire aveva voluto dare con questo edificio l'immagine del potere della rilevanza sua personale della sua famiglia ma dopo la sua morte il palazzo è passato di mano varie volte fino a quando appunto intorno al 1430 non viene acquisito dalla comunità palermitana cioè dal comune di Palermo diciamo così è trasformato nell'ospedale pubblico della città la cosa interessante è che questo fenomeno di accorpamento in uno spazio unico e vasto di delle tante istituzioni assistenziali che caratterizzavano le città medievale è un fenomeno che si svolge contemporaneamente un po' in tutta Italia se ci pensate è successo a Milano con la Cagrande è successo a Bergamo con l'ospedale di San Marco è successo a Firenze con l'ospedale di Santa Maria Nova tutto rifatto nel 400 e senza contare gli altri casi insomma che non stavo a numerare anche a Palermo proprio negli stessi anni si decide questa soluzione quindi i rettori dell'ospedale decidono di come dire non tanto confortare ma certo sostenere da un punto di vista così morale e dottrinale anche i pazienti che venivano portati in questo in questo luogo che spesso non erano solo ammalati ma venivano qui raccolti anche i bambini abbandonati gli anziani le vedove che non avevano sussistenza insomma sapete qual è la questione dell'assistenza in quell'epoca e avevano stabilito di far affrescare le pareti del portico di questo di questo palazzo con immagini che dovevano andare dalla morte alla salvezza del paradiso poi in realtà l'unico fresco che è stato realizzato è stato proprio questo che rappresentava invece la morte con quale gioia delle persone assistite in questo luogo ve la lascio immaginare ma insomma c'è anche da dire e questo è un aspetto molto importante che nel passato l'assistenza ospedaliera era considerata soprattutto ad alleviamento delle pene del malato non c'era come dire quella convinzione o la speranza concreta di riuscire a guarire l'ammalato tanto è vero che per esempio sappiamo che a Palermo praticamente non c'erano medici in senso moderno che operassero stabilmente all'interno dell'istituzione c'erano i cerusici c'erano gli infermieri ma medici pochi lo scopo era soprattutto quello di dare sollievo alla malattia di accompagnare anche verso la morte quindi in un certo senso questa immagine poteva essere giustificata e non è un caso che sia stata realizzata per prima siamo sicuri di quello che vi dico cioè che ci fosse l'intenzione di affrescare tutto perché prima di tutto la porzione di portico sotto la quale l'affresco si trovava è quello di ingresso quindi uno entrava e aveva l'affresco alle spalle uno entrava nel cortile aveva l'affresco alle spalle e questo non sarebbe stato se fosse stato l'unico affresco concepito dai committenti l'avrebbero messo di fronte all'ingresso e invece è stato messo in questa posizione perché poi in teoria tutto avrebbe dovuto essere ultimato in realtà bisognerà aspettare solo il 1600 perché Pietro Novelli che è stato il più importante pittore siciliano di quel secolo venga incaricato di realizzare una grande immagine con la rappresentazione del paradiso sempre ad affresco su queste pareti come forse potete intuire dalla cattiva condizione di questo portico e anche di quello dell'immagine precedente il palazzo è stato gravemente bombardato durante la seconda guerra mondiale ormai naturalmente non era più ospedale era stato trasformato in una caserma e ancora oggi è uno spazio militare ospita il comando della regione militare sud del nostro esercito quindi viene bombardato l'affresco resta scoperto per quasi un anno per fortuna parzialmente almeno coperto dalle macerie cadute però esposto alle intemperie quindi si rovina molto quello che vedete nella fotografia è una riproduzione anche un po' in piccolo dell'affresco originale nella posizione in cui si trovava quindi non appena possibile si procede allo stacco dell'affresco dalla parete perché non esisteva più un tetto sotto il quale proteggerlo ma essendo un affresco molto grande si è stati costretti a dividere in quattro parti l'operazione ecco perché oggi l'immagine appare così vedete molto rovinata proprio nella parte centrale dove è stato effettuato il taglio il primo taglio dell'affresco ecco questa immagine l'ho scelta perché ci dà proprio un po' la sensazione delle dimensioni gigantesche di questo di questa affresco vediamo che cosa rappresenta l'affresco è un affresco spiccatamente tardo gotico non sappiamo chi sia l'autore non sappiamo quando sia stato dipinto ma è probabile che risalga alle prime fasi di vita dell'ospedale quindi probabilmente è stato realizzato intorno al 1450 55 da un artista poi accenneremo alla fine che aveva una grande cultura tardo gotica molto raffinata ma osserviamo un po' nel dettaglio allora l'immagine che ci viene proposta è quella di un ortus conclusus vedete che ci sono anche se molto rovinate sul fondo le immagini di siepi che chiudono uno spazio che nelle intenzioni tradizionali vuol dire nell'iconografia dell'ortus conclusus è uno spazio protetto è uno spazio leggiadro è uno spazio di benessere all'interno del quale spazio irrompe una figura terribile che è quella della morte a cavallo a cavallo di un cavallo scarnificato a sua volta repellente orribile e utilizzando il proprio arco la morte inizia a fare strage fare strage soprattutto dei giovani dame e cortigiani che in quell'orto stavano a godersi il momento di di piacere di rilassatezza vedete c'è un suonatore di liuto c'è un suonatore di arca e c'è anche questa presenza piuttosto rassicurante di una fontana che ha evidentemente un significato simbolico ma entriamo un po' più nel dettaglio mi scuso purtroppo i colori non sono molto fedeli ma insomma ho cercato delle immagini che fossero leggibili come appunto vi dicevo la morte viene rappresentata nella forma non più grazie al cielo di una donna anziana come era avvenuto nei trionfi delle morte precedenti ma come uno scheletro armato di un arco vedete lo tiene nella mano sinistra con il quale lancia frecce che colpiscono e uccidono in modo indiscriminato non so come dire in modo assolutamente improvviso e inatteso i giovani e le dame del giardino e il cavallo è davvero molto impressionante ma ancora più di questa immagine che in fondo è un'immagine che noi conosciamo perché il tema della morte così rappresentato è diventato poi un po' caratteristico dell'iconografia occidentale già peraltro altri trionfi della morte avevano preceduto questo penso a quello di Buffalmacco per esempio a Pisa nel Camposanto di Pisa tutte immagini queste generate probabilmente dalla tremenda vicenda della peste nera del 1348 è stata la più grande tragedia del mondo occidentale un terzo della popolazione d'Europa è morto in quell'occasione e la cosa che vorrei sottolineare con voi è il fatto che improvvisamente dopo la vicenda della peste nera l'iconografia della morte che uccide e che spazza come un cavaliere dell'Apocalisse l'umanità si sostituisce alla tradizionale immagine del giudizio universale concettualmente le due raffigurazioni fanno riferimento allo stesso tema cioè al destino ineluttabile di tutti gli uomini di finire con la morte ma il tema del trionfo della morte è un tema molto più laico rispetto a quello del giudizio universale incommensurabilmente più laico è come se la cultura europea incominciasse a liberarsi dai vincoli della tradizione religiosa medievale per come dire riflettere sul tema della morte in termini più laici insomma questo mi sembra davvero un aspetto da rimarcare da sottolineare quindi la morte arriva lancia le sue frecce una di queste per esempio colpisce la giovane dama vestita di rosso un'altra colpisce sempre nel collo invece il giovane vestito di blu sulla destra che vengono immediatamente soccorsi vedete sia la dama sia il giovane uomo vengono soccorsi da persone pietose c'è qualcuno che invece questo soccorso non lo può ricevere e sono i potenti della terra che vengono rappresentati proprio sotto la figura del cavallo e dati per già morti sono vescovi sono papi sono esponenti degli ordini religiosi più importanti sono imperatori e sovrani quindi le figure già spazzate via dalla morte in un certo senso sono le figure di quelle sono quelle figure di potere che avrebbero dovuto recuperare per aiutare a evitare la morte nel caso specifico eventualmente nel ricordo collettivo la morte nera ma non l'hanno fatto e quindi giacciono morti a terra giacciono morti a terra sulla sinistra ci sono un gruppo c'è un gruppo di persone particolari adesso le vedremo meglio nel dettaglio che si contrappongono appunto al gruppo di destra allora osserviamo il gruppo di destra avevo detto che ci sono queste figure soccorrevoli la dama in basso in primo piano vestita di rossa colpita dalla freccia ha intorno a sé tre figure tra l'altro vestite di bianco di rosso e di verde che rappresentano delle figure di soccorso in una lettura che trovo molto convincente molto recente di questo dipinto si fa riferimento al fatto che le tre figure con questi colori potrebbero rappresentare le tre virtù la fede la speranza e la carità che vengono come dire chiamate in campo nel momento dell'assistenza così come assistito da un amico insomma da una persona soccorrevole il giovane uomo colpito dalla freccia in realtà non muore perché lo vediamo in alto sulla destra che si avvia verso la fontana la fontana presso la quale suona il suonatore di gliuto suona il suonatore della cetra la fontana nella tradizione tardogotica soprattutto per questo tipo di immagine è un rinvio al tema della fontana della giovinezza cioè il luogo nel quale come dire si torna giovani e quindi si abbandona la malattia la vecchiaia la sofferenza per riacquistare la vitalità giovanile e e quindi come dire c'è una sorta di immagine di speranza la morte si uccide i potenti che nulla fanno per soccorrere per aiutare e invece là dove c'è assistenza dove c'è speranza dove c'è carità la morte può essere sconfitta sembra voler dire questa immagine tutto questo viene osservato con grande attenzione tutta questa vicenda di morti di persone colpite dalla malattia e forse salvate da un gruppo di persone che vengono genericamente definite i poveri che non hanno nulla a che vedere né con l'ortus conclusus né con le vicende di morte di rinascita ma stanno semplicemente osservando sono evidentemente le figure che rappresentano i frequentatori dell'ospedale il pubblico al quale era destinata la grande immagine ed è interessante osservare con quale accuratezza queste raffigurazioni siano state proposte ve le faccio vedere un po' più da vicino guardate che grande attenzione di dettaglio che non è solo quello naturalistico degli alberi ma è proprio una grande cura nella definizione delle materie degli sguardi eccetera secondo un principio tipico della tradizione tardogotica in alto a sinistra ci guardano ci guardano con questo sguardo così intenso che ci interpella due figure che sono state variamente interpretate ma direi che l'ultima interpretazione è quella definitiva senz'altro il più anziano quello a destra che ci guarda tiene in mano vedete un bacchetto di legno con in cima proprio in alto un batuffolo un pezzo di stoffa legato mentre l'altro in mano hanno un pennello e una piccola ciotola chi sono i due vediamo più da vicino una volta individuati dopo l'ultimo restauro con esattezza questi elementi che tengono in mano e che li contraddistinguono sono sicuramente il ritratto dei due artisti che hanno realizzato l'opera il più anziano il capo bottega e il più giovane il suo collaboratore il bacchetto con quel tampone di stoffa in alto altro non è che il poggia a mano cioè uno strumento che gli artisti utilizzavano molto sia nella pittura a cavalletto sia nella pittura da fresco per evitare che la mano che utilizzava il pennello si appoggiasse sul supporto quindi rovinando quello che era già dipinto il tampone serviva per appoggiare nella zona esterna del dipinto la bacchetta e l'altra mano libera la sorreggeva così era possibile anche avere un polso più fermo e dipingere con più accuratezza poi il pennello e il calamo col colore fanno evidentemente riferimento alla funzione insomma che questi artisti hanno svolto purtroppo non sappiamo chi fossero queste figure ancora un altro particolare dei poveri degli anziani delle donne delle vedove che vengono accolte nell'ospedale e che assistono a questa vicenda di morte e di possibile recupero quindi io non interpreterei tanto andiamo a vedere questi sono i volti scusate appunto dei poveri questo è invece il particolare dei potenti che vengono uccisi e sono particolari davvero atroci c'è la figura del papa per esempio vedete proprio scarnificata verdastra insomma proprio un'immagine che genera repulsione quindi io mi sento un po' di come dire di aggiornare la lettura tradizionale che si dà di questa immagine come quella della morte che arriva e uccide tutti uccide i potenti uccide i giovani come forma di livella come se ai malati dell'ospedale tutti poveri perché sapete che nell'ospedale andava solo la povera gente i rettori dell'istituzione dicessero vabbè tu stai morendo ma guarda qui un po' la morte arriva per tutti ecco forse questo messaggio così un po' banale non era quello giusto e più credibile invece che fosse proposta un'immagine in cui il cavaliere dell'apocalisse perché indubbiamente quella morte a cavallo è un'immagine apocalittica contenga un'esplicita indicazione di condanna per chi potente non opera a vantaggio di tutti ma con questa apertura insomma di speranza nell'immagine invece del appunto del soccorso da parte di fede speranza e carità o di persone pietose in grado di guarire e risanare e quindi insomma un messaggio direi più convincente l'ultima indicazione ecco ancora la fontana della vita presso la quale si avvia il ragazzo che era stato era stato colpito dalla freccia e l'ultima immagine interessante è questa figura di spalle di falconiere viene definito genericamente ha un'aquila sul braccio quindi in una lettura piana dell'immagine si dice è un falconiere che guarda verso il futuro guarda allo sguardo rivolto verso l'affresco che avrebbe dovuto essere realizzato a fianco e che in realtà non verrà mai fatto in una lettura più articolata che fa riferimento al tema apocalittico del cavaliere della morte eccetera questa potrebbe essere anche un'immagine di Giovanni che tiene in mano il suo simbolo iconografico detto questo l'affresco è un affresco di straordinaria qualità di incantevole bellezza nelle forme nelle cromie di elegantissime strutture guardate quei levrieri nella parte in alto a sinistra che stanno in qualche misura sempre a come dire a rendere gradevole lo spazio dell'ortus concluso nel quale si manifesta questa forza di rompente della morte purtroppo non siamo assolutamente in grado di dire chi sia l'artista che ha realizzato quindi quel personaggio che si è autoritratto nell'affresco recentemente è stato fatto il nome di un pittore valenziano che si chiamava Peris Gonzalo che è nato appunto Valencia quindi nel regno d'Aragona e vi ricordo che i sovrani di Sicilia erano gli aragonesi in questo periodo del quale abbiamo però poche notizie pochissime opere sicuramente attribuite effettivamente alcuni dei volti e il modo particolare di tratteggiare il volto da parte di quest'artista nelle opere sicuramente attribuite ricorda quelle del nostro affresco però purtroppo a parte questa indicazione di carattere formale non abbiamo altre notizie mentre sappiamo con certezza perché l'ha raccontato Guttuso sappiamo con certezza che Picasso che non aveva visto questo questo affresco perché a Palermo Picasso non è mai non è mai stato però conosceva molto bene questo questo affresco nelle riproduzioni naturalmente che aveva a disposizione ed è sembra che sia stato almeno così racconta Guttuso che sia stato Picasso a dire a Guttuso che questo cavallo è quello che l'ha ispirato poi nella realizzazione di Guernica e del suo cavallo drammatico non sappiamo se sia vero se sia un'invenzione di Guttuso naturalmente Guttuso era molto legato a questo a questo affresco neanche a dirlo anche se l'aveva visto ancora prima della guerra nella vecchia sede della caserma di Palazzo Sclafani e può essere che in realtà Picasso abbia visto altre raffigurazioni analoghe di trionfi della morte catalane che però non sono state ancora finora individuate proseguiamo nel nostro cammino questo è uno scorcio della sala 5 dove sono collocate sculture della famiglia Gagini che è una famiglia di scultori di origine ticinese che arriva attraverso Napoli arriva in Sicilia lì porta il linguaggio della scultura rinascimentale o conferma per meglio così dire con una bottega che avrà una vita molto lunga il linguaggio rinascimentale in scultura ma a quello che a noi interessa è quello scorcio che Carlo Scarpa ha costruito così abilmente collocando dei pannelli dietro la scultura e mi riferisco alla meravigliosa celeberrima immagine che è probabilmente il ritratto di Eleonora d'Aragona realizzato da uno scultore di origine dalmata Francesco Laurana che ha lavorato molto passando attraverso Venezia e Urbino ha lavorato molto prima Napoli per al fosso d'Aragona il maschio Angioino l'accesso monumentale al maschio Angioino e poi in Sicilia la scultura è una scultura davvero straordinaria nel contesto dell'isola nel 400 è stata probabilmente realizzata intorno al 1488 89 durante uno dei due viaggi dell'artista in Sicilia ma si riferisce ad un personaggio storico Eleonora d'Aragona appunto che era morta molto molto tempo prima nel 1405 il committente di questo busto era infatti un discendente Carlo Luna principe di Caltabellotta un discendente del marito di Eleonora che era figlia del re aragonese Federico III che quindi era venuta in Sicilia a sposare uno dei grandi baroni siciliani tutto questo però in un'epoca assolutamente precedente quella dello scultore cioè pensate che il matrimonio è avvenuto nel 1369 allora cosa può essere successo può essere successo che Carlo Luna appunto il discendente del marito Guglielmo Peralta di Eleonora decide di collocare un busto scultura sul cenotafio della sua illustre antenata cenotafio che si trovava all'interno della chiesa di Santa Maria del Bosco a Calata Mauro che è una località del cuore della Sicilia tra Palermo e tra Palermo e Agrigento praticamente nella valle del Belice cenotafio perché in realtà la Eleonora d'Aragona non era morta lì e il suo corpo non è mai stato portato in questo monastero che era un luogo che lei aveva molto beneficiato però lì c'era un suo un suo memoriale e quindi il discendente decide di far collocare una scultura questo almeno è quello che si suppone sia avvenuto potrebbe anche essere che in realtà questa scultura si riferisca a tutt'altra figura di donna quello che è certo è che per secoli è stata collocata su quella tomba per fortuna anche se sapete che insomma oggi non si farebbe più ma per fortuna la scultura era stata portata via dal monastero nel corso dell'Ottocento perché purtroppo durante il terremoto del Belice la chiesa è quasi completamente crollata e poi l'incuria degli anni successivi ne ha determinato di fatto insomma la scomparsa quindi avremmo perso anche questo pezzo molto prezioso la nostra Eleonora viene ritratta in modo straordinariamente come dire sintetico no e questo sarebbe giustificato proprio in relazione al fatto che non si tratta di un ritratto reale ma è un ritratto idealizzato quindi questa bellezza così rarefatta così perfettamente geometrizzata si spiega in relazione a una sensibilità e un gusto che è quello dell'artista e del suo committente non certo in relazione all'aspetto della donna la quale è morta peraltro l'ultracinquantenne mentre questa che viene rappresentata è evidentemente una ragazzina ma questa purezza di forme questa costruzione geometrica anche se gli elementi della capigliatura con questa rete che chiude tutti i capelli la feste scollata con lo scollo quadrato fanno riferimento alla moda rinascimentale ma insomma questi elementi di sintesi della forma sono evidentemente un modello che Francesco Laurana lo scultore ha preso da Piero della Francesca infatti sappiamo con assoluta certezza che Francesco Laurana è stato ad Urbino ha lavorato ad Urbino e quindi ha avuto sicuramente modo di vedere e di interiorizzare l'esperienza l'esperienza Pierfrancescana trovo elegantissime queste sopracciglie così alte di Eleonora appena accennate queste palpebre semi abbassate che sono poi uno degli elementi proprio del linguaggio della scultura dell'Urana il quale era stato chiamato a realizzare altri ritratti importanti per esempio questo di una fanciulla che non è conosciuto molto simile però vedete a quello di Eleonora è un ritratto che è conservato all'Uvra quello di destra presso a poco degli stessi anni allora il dubbio qual è anzi direi una quasi certa convinzione è che Laurana abbia avuto per questi busti la stessa modella abbia fatto riferimento alla stessa modella che quindi in entrambi i casi si tratti di rappresentazioni idealizzate della donna mentre questa invece è Battista Sforza ritratta a Rubino da Laurana probabilmente ricavando l'immagine dalla maschera funeraria perché Battista Sforza la moglie di Federico da Montefeltri era morta nel 1471 e la scultura è più tarda di qualche anno successiva però vedete ritroviamo di fatto anche se questa è una scultura un po' più fisionomica questa scelta di assolutizzare gli elementi fisionomici per ridurli ricondurli alla forma geometrica perfetta e infine questo bellissimo che è un ritratto in marmo dipinto che si trova a Vienna al Custi Storisches Museum questo invece è il ritratto di Isabella d'Aragona la figlia del secondo sovrano di Aragona a Napoli Alfonso II la quale diventa duchessa di Milano perché sposa Gian Galeazzo Sforza e anche in questo caso la somiglianza fisionomica è probabilmente più era più evidente ma resta questa volontà da parte dell'artista di rarefazione della forma molto affascinante infine per ultimo ma insomma l'immagine della nostra Eleonora d'Aragona un pochino ci conduce all'opera finale per ultima arriviamo nella sala del primo piano dove si trova l'opera più famosa della collezione e cioè l'annunciata di Antonella da Messina che viene collocata in una sala insieme come vedrete ad altri pannelli dello stesso ottore questo un po' spiegabilmente questo gonfalone processionale della metà del 1400 quindi l'associazione è di tipo puramente cronologico proveniente da un paesino della provincia di Messina che si chiamava Tusa è un gonfalone processionale di spettacolare bellezza come vedete è molto diverso dai nostri gonfaloni che siamo abituati a conoscere in tela dipinta ma arriviamo appunto all'annunciata della quale vi mostro l'allestimento museale che io trovo purtroppo in questo caso proprio non bello insomma non funzionale al godimento dell'immagine capisco le necessità di protezione capisco le esigenze di scarpa di associare materiali molto lineari molto semplificati all'oggetto antico ma trovo che sia molto invadente come come collocazione quindi passiamo direttamente all'opera opera celeberrima come sapete si tratta di una piccola tutto sommato piccola dipinto a olio su tavola misura 45 cm per 34 e mezzo è un'opera straordinariamente rivoluzionaria rivoluzionaria sia più in generale nel contesto della pittura rinascimentale sia nel contesto stesso della produzione di Antonello perché infatti fino a quel momento l'opera è stata probabilmente dipinta tra il 1475 e il 1476 fino a quel momento Antonello aveva dipinto altre vergini annunziate ma con aspetti più convenzionali la prima la più antica diciamo quella di più antica fra quelle che sono giunte a noi i dipinti di Antonello la più antica datata mille firmata e datata quindi qui siamo sicuri 1473 è la vergine annunziata che vedete in alto purtroppo il politico detto politico di San Gregorio e conservato al museo regionale di Messina ha subito i terribili guasti in occasione del terremoto del 1908 è stato travolto dalle rovine della chiesa che l'ospitava e quindi questa è la situazione attuale la vergine della quale per fortuna si conserva gran parte almeno del volto ed è molto leggibile malgrado le lacune l'immagine si presenta di tre quarti vedete con gli occhi abbassati c'è questa tendenza alla semplificazione geometrizzante delle forme che per l'anno 1473 in Antonello è ancora parzialmente legata alla tradizione che lui aveva acquisito durante la sua formazione napoletana cioè una formazione di carattere fiammingo provenzale subito dopo l'anno successivo dipinge per una chiesa di palazzolo a creide questa madonna annunziata che si è rovinata invece proprio per motivi di incuria è una madonna che è rimasta praticamente sconosciuta fino alla fine dell'ottocento quando proprio con grande fatica insomma perché per raggiungere palazzolo a creide si viaggiava ore e ore su strade scalcinate finalmente è stata riconosciuta ed attribuita all'artista anche in questo caso scusate l'opera oggi è conservata a Siracusa in palazzo bellomo qualcuno che è venuto in viaggio con me a Siracusa forse ricorderà che l'abbiamo vista insieme anche questa vergine annunziata ha le stesse caratteristiche della precedente cioè è ritratta di tre quarti il volto ovale è molto sintetico teniamo presente che comunque si trattava di pale d'altare che quindi sarebbero stati osservati a distanza mentre l'annunziata di palazzo Abbatelli si era un dipinto di devozioni private quindi con un contatto molto più ravvicinato da parte dell'osservatore come potete osservare davvero il modello di riferimento per le due annunziate quella di Messina e quella di Siracusa oggi sono molto simili insomma al modello di riferimento per il nostro è qui che succede la grande rivoluzione è qui che improvvisamente la vergine che era di tre quarti con un atteggiamento sottomesso con lo sguardo abbassato le palpebre abbassate piuttosto in mota si ruota ruota su se stessa verso l'osservatore ponendosi quasi frontalmente ma vedete tutto un gioco molto articolato di di rotazioni quello che Antonello ci propone lo scrittoio sul quale poggia il libro è un scorcio utile ai fini della definizione della prospettiva uno scorcio più potente rispetto alla posizione della donna che è ruotata che ruota il busto il collo la testa in modo fra loro differenziati e mette l'osservatore che sta di fronte a lei il devoto in origine l'osservatore oggi in condizione di cogliere lo sguardo così intenso e così pensoso in modo diretto e immediato l'osservatore occupa una posizione privilegiata in questo in questo dipinto perché la condizione di visione dell'osservatore e quella dell'angelo annunziante secondo le intenzioni dell'artista coincidono perfettamente Antonello elimina gli elementi chiave della rappresentazione dell'annunciazione elimina l'angelo come abbiamo detto anche se Zeri per esempio Federico Zeri insisterà molto a lungo fino alla fine dicendo che in realtà non esiste nella tradizione nella cultura quattrocentesca l'idea che si possa rappresentare come dire la conseguenza senza rappresentare la causa e quindi sarebbe stato impensabile per un pittore un committente quattrocentesco immaginare la Vergine annunziata senza l'angelo e dice quindi sicuramente questo come quella successiva che oggi è conservata a Monaco sono due annunziate che costituivano un dittico in origine da una parte la Madonna dall'altra l'angelo ma in realtà sui bordi di questa tavoletta che si sono conservati integri non c'è nessun segno di cerniera che invece è necessaria nel caso del dittico e quindi l'ipotesi di Zeri secondo me va respinta indubbiamente Antonello fa una cosa straordinaria cioè elimina come dicevamo gli elementi chiave cioè elimina l'angelo ed elimina l'altro elemento fondamentale che è lo Spirito Santo la colomba dello Spirito che è sempre presente nelle raffigurazioni in modo molto diretto quindi quello che manca noi osservatori dobbiamo immaginarlo dobbiamo intuirlo l'immagine è molto complessa sul libro che la Vergine legge è stato individuato il testo che è il testo del Magnificat scritto in lettere Onciali ecco perché per tanto tempo gli studiosi non sono stati in grado di leggerlo quel testo invece è stato riconosciuto recentemente proprio il testo del Magnificat quindi è una fase complessa dell'evento della della annunciazione perché la Vergine pronuncia il Magnifica quando ormai il concepimento dentro di lei è avvenuto qui invece abbiamo la mano che si leva come dire in sospensione mano bellissima peraltro un'invenzione anche dal punto di vista della regia luminosa straordinaria la mano che si leva ad indicare il momento della sorpresa della Vergine abbiamo il volto pensoso di Maria che medita su quello che l'angelo le dice si chiude in questa struttura geometrica perfetta che è il mantello e abbiamo il Magnificat che indica l'ultima fase dell'annunciazione e quindi è lì che lo spettatore entra in gioco cioè Antonello chiama prepotentemente l'osservatore in gioco e l'osservatore deve intuire quello che non si vede la prima cosa che intuisce è di essere un protagonista dell'evento allora possiamo immaginare di essere l'angelo possiamo immaginare di essere un testimone ma certo siamo assolutamente coinvolti nella vicenda dell'annunciazione e lo spirito lo spirito santo che arriva sulla Vergine è all'uso e trovo che sia proprio un'osservazione illuminante questa è all'uso da quel soffio di vento che fa girare le pagine del libro noi quando pensiamo allo spirito santo lo pensiamo appunto come entità incorporea lo spirito nel senso più di anima che di essenza fisica per gli ebrei invece lo spirito era proprio il vento che soffiava e quindi ecco lo spirito come elemento che muove la realtà terrena in questo caso i fogli ma questa immagine così appassionante così famosa anche insomma se pensate quante volte è stata riprodotta quante volte abbiamo avuto sotto gli occhi in realtà ha una storia molto oscura noi abbiamo le prime notizie della dell'annunziata di Antonello solo nella seconda metà del 1800 quando uno dei grandi studiosi di Antonello da Messina era soprattutto un archivista che proprio si è prodigato nello studio degli archivi lui era un messinese si chiamava Giochino di Marzio degli archivi messinesi per ricostruire la vicenda biografica e artistica di Antonello e per fortuna che l'ha fatto perché poi con 1908 tutti questi documenti sono andati perduti noi non sapremmo nemmeno quel poco che è stato possibile ricostruire comunque proprio questa figura Giochino di Marzio nel 1866 scrive una lettera a un suo corrispondente nella quale dice di aver visto a Venezia presso le gallerie dell'Accademia una figura di annunziata molto simile a quella che sapeva da poco essere finita in proprietà di un suo anche come dire in parte oppositore che si chiamava Vincenzo di Giovanni era un monsignore palermitano anche lui molto interessato all'arte di Antonello da Messina che aveva questo monsignore di Giovanni aveva acquistato un'annunziata presso una famiglia aristocratica siciliana allora il di marzo dice ho visto a Venezia un'annunziata identica a quella di Antonello ed è quella che vedete a sinistra nell'immagine si tratta della Madonna annunziata dipinta a Venezia intorno al 1476 da Antonio de Saliba che era un nipote di Antonello da Messina al quale lavorava con lui nella sua bottega lo affiancava nella bottega allora il dubbio era quale delle due fosse l'originale ma noi che possiamo oggi osservarle vicine non abbiamo dubbi per quanto molto bella la copia di Antonio de Saliba in realtà vedete ha una rigidità una durezza anche di contrasto delle ombre che l'originale di Antonello non ha però insomma una volta superato il dubbio di quale delle due fosse l'originale l'elemento interessante era la condizione veneziana cioè il fatto che la copia dell'annunzata si trovasse a Venezia da tempo remotissimo probabilmente non se n'era mai andata da Venezia allora l'ipotesi che Gioacchino di Marzio fa è che Antonello abbia dipinto la sua annunziata proprio a Venezia nel periodo dall'estate del 1475 alla primavera avanzata del 76 in cui è stato appunto nella città lagunare e poi da lì non sappiamo bene attraverso quali percorsi l'opera è arrivata in Sicilia ed è finita nelle mani del collezionista il quale Monsignor Di Giovanni ha pensato bene per testamento di lasciare l'annunziata a quello che allora era il museo nazionale quello di Antonio Salinas e quindi poi dopo la seconda guerra mondiale l'annunziata è andata è finita nel nostro museo Abbatellis per amore di completamento esiste un'altra annunziata che ha un po' le stesse caratteristiche mancano alcuni elementi dell'annunciazione ed è quella che Antonello ha dipinto probabilmente a Venezia o subito dopo Venezia e che oggi è conservata a Monaco l'opera è in parte diversa sta ad indicare un momento molto più preciso dell'annunciazione non è così articolata dal punto di vista della possibilità di riflessione ma ha la caratteristica di essere forse un po' più morbida nella definizione per esempio delle mani e del volto rispetto all'annunziata di Palermo e quindi è proprio figlia di un'esperienza di contatto con la tradizione veneziana ecco perché nella diatriba che ancora corre nel storico dell'arte su quale delle due sia più antica io mi schiero per la maggiore antichità dell'annunziata di Palermo finisco chiudo mostrandovi un altro scorcio della sala dove si trova l'annunziata sulla parete diciamo a fianco dell'ingresso sono collocati su questi altri orri di pannelli tre cupidi di un politico che Antonello da Messina ha dipinto per non sappiamo quale chiesa non sappiamo quale tipo di immagine si tratta di tre dottori della chiesa manca il quarto Sant'Ambrogio che è andato perduto le abbiamo viste in occasione della mostra di Antonello da Messina a Milano due anni fa si tratta di opere piuttosto giovanili nelle quali ancora molto evidente l'influenza della cultura nordica nel dettaglio accurato con il quale il nostro definisce i particolari soprattutto dell'abbigliamento un po' fragili un po' deboli forse perché hanno subito amputazioni forse puliture incaute gli aspetti anatomici guardate le mani che sembrano così un po' inconsistenti ma in fondo forse quello delle mani è stato anche uno dei grandi problemi dell'Antonello da Messina giovane bene io ho concluso il percorso avrei piacere di sentirevi ancora scrivetemi mandatemi le vostre impressioni e questi sono i miei riferimenti come sempre sono i miei